Buongiorno Buongiorno Sto mi abbonando dietro la porta a vedere Mi ha pure il fucilozzo E' una parata Parata storica Ma qui c'era di monte Ma ora no E io che devo fare Devo fare foto che non potresti fare Ma dove è qui? Questo è un luogo pubblico No Vai entro Vieni Vieni Aspetta Vorrebbe essere Eee Stai semillano Allora Non ci sono i ragazzacci Arrivò benzi Non ci sono i ragazzini Non ci sono i ragazzini Non ci sono i ragazzini Occhio Occhio Opa scusate Vieni 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 Buon appetito! Ah, vedete, potremmo salire su Podiamo salire su, Lori? Andiamo, vedete Guarda, qui è bello Ma che scherzo, guarda che spettacolo, guarda C'è tutta la, capito? Tutti devono ancora uscire E' quel briore di Barbiene Monti, guarda Spremmo Robi Pronto Nadia, siamo a Piazza Santa Croce, stiamo guardando sfilare la fine della manifestazione, hanno vinto praticamente gli azzurri per otto cacci a zero, gli avversari non so chi sono. Faccio parlare con Lorenzo, la mamma richiamalo dai. Faccio parlare con Lorenzo, la mamma richiamalo dai.